Sono Stefano Caniato, ho già partecipato a due edizioni di PianoCity. Quest'anno vorrei presentare un programma di trani jazz molto tradizionali, come questo brano di J.P. Johnson, che fu maestro di testuola recambesi. Il brano si intitola If I could be with you, one hour tonight. Il brano si intitola I.P. Johnson, che fu maestro di testuola. Il brano si intitola I.P. Johnson, che fu maestro di testuola.